Dopo due anni con le luci staccate, il comprensorio della Betone spera di inaugurare la stagione scistica al prossimo fine settimana, sfruttando così anche il ponte dell'Immacolata. Non manca neanche la neve, caduta copiosa anche nelle ultime ore. Lo scorso inverno, con le piste vuote, era caduta così tanta neve, da aggiungere la beffa al danno enorme tra i 70 e i 100 milioni di euro causato dal Covid. L'obiettivo è partire il prossimo fine settimana, conferma Rolando Galli, presidente della società Betone Funivie. Però bisogna essere corretti, ad ora non possiamo esserne certi. Dipende da quanto nevicherà. Già in queste ore, intanto, aprirà una pista in Val di Luce. Lo annuncia Andrea Formento, assessore al turismo e allo sport del comune di Abetone Cutigliano, nonché presidente di Federfuni. Per festeggiare, ingresso libero per tutti non è poco, visto che i prezzi degli ski pass sono destinati ad aumentare. La causa, hanno spiegato, è il rincaro del gasolio e dell'energia elettrica. Comunque, non dovrebbe salire oltre il 10%. In zona bianca e gialla, sciatori e snowboarder dovranno indossare la mascherina, mentre il green pass è obbligatorio solo per gli impianti di risalita al chiuso. Alla Betone, quindi, si potrà sciare anche senza. In caso di zona arancione, servirà invece il super green pass. In zona rossa, tutto fermo. Ma sui controlli non c'è ancora una direttiva. Siamo in attesa di regole certe, ha detto Formento. Ad oggi, sono destinati ad essere fatti a campione. Poi si servirà un software per controllare le persone ai tornelli insieme allo ski pass. Ci adegueremo. Grazie. Grazie. Grazie.